Di bronzo per Russo Arianna, scontato. Sempre faccio di bronzo per Gianella Angelica, lucera. Ancora in faccio di bronzo, Giovisara, sporfaia. Ora, passiamo alle tre ginastri in fascia Argento, Ferreo Griglietta, di casa. Ancora è nel fascia Argento, Marissi Sala, piccola. Sempre in fascia Argento, di Giorgietti Sveglia, che è morto. Ora di tre ginastri in fascia Oro, di grosso Chiara, lucera. Ciamocciastupia Lucia, regazio. Ancora fascia Oro per Gialdo Caterina, l'amirice Camagnano. Quindi, Germastro Giorgia, Pianna Diego Alessio, Raffaone, Giorgietti Arvato, Pianna Diego Alessio, a Sassi Manu. Sassi Manu. Pianna Diego Padriano, che è l'acqua per oggi? Zuffati, donna Bialdo, che è l'acqua per il rischio del marco. Fiannai Greta, pianna Bialdo,adaso Giorgia, l'acqua per 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 l'acqua. Parnata Giulio, Blaset Giulia, Frioletti Federica, Minabrata Giulio, Deppinati Francesca, Giorfo Denissi, Giarda Sala, Aghieri Giulio, Salamone Valentini, Aprile Martini, Valeri Vittorio, De Monti Vittorio, Gopreya Lucisca, Tune Di Corrisa, Casabana Giojca, Cristian La Pugliana, Kadeira Diši, Vigilnaro Giojca, Vigilnaro Giojca, Fulpa Ibele Martini, Angelici Sala, Gasparlini D'Arrice, Minutti Milla, Vittorio Francesca, Porti Elisa, Unlevi Matilde, Cristone Giardino, Martini Sala, Pugliana, Pugliana, Cimri Pugliana, Giojca, Giojca, Capagli Moebi, Camigliani Alessio, Pirinei Sala, Sartori Eleonora, Giojca Pagliana, Rosetti Alicio, Neđudini, Quattrocchio Gallo, Manitro Aviso, Sara Aurore, Tinania Asia, Sargentini Sofia, Michiragli Sofia, Roccini Emi, Petrone Giulietta, Micolini Aviso, Borgen di Asia, Di Piero Giorgia, Sardini Anche con loro la grande parte di tutti, mi stanno salendo a tutti Mi invito a tutti, a notare il nostro posto, a rivoluzione, a rivoluzione di voi fotografi e per gli obiettivi, per gli attrezzi, per la sigla digitica abbiamo terminato, perfetto, vediamo dal posto e ora andiamo a dire, squadra, colpo lì Grazie